Da cosa stai fuggendo? Mio padre. Allora scrivi su di lui. Lascia che il suo dolore diventi l'ispirazione. Ci sono cose intrappolate dentro di me e conosco solo un modo di gestirle. Cioè scrivere una canzone. Hai fame? Ho apparecchiato la tavola. Che senso ha? Voglio rimettere a posto le cose tra me e te. Mio padre era un mostro. Ho visto con i miei occhi come si è trasformato. Tu hai un dono. Un dono di natura. Dall'uomo che odiavo nel mio migliore amico. Allora ho scritto questa canzone per mio padre.